Dal 20 al 22 novembre ad Asiago torna il grande hockey ghiaccio con la Continental Cup. Siamo qui con il presidente dell'Asiago Hockey, Piercarlo Mantovani. Presidente, è tutto pronto per questo grande evento? Sì, un grande lavoro perché la manifestazione è grande, importante, tante persone coinvolte, tantissimi volontari, tanta passione come sempre. L'evento è grande, l'evento è importante, sarà bello poter dire io c'ero. Chiaramente l'obiettivo per la squadra di casa è ambizioso, ci sono squadre però che arrivano da paesi molto molto importanti dal punto di vista okeystico, quindi non sarà facile ma l'Asiago proverà a giocare al meglio. Noi abbiamo puntato molto sulla Continental, vogliamo fare un risultato importante anche se la competizione è difficile, sicuramente è difficile in tutte le squadre. Forse quella che conosciamo meno è la Lettonia ma sarà difficile, squadre importanti ma risultato possibile e ambizioso. Si comincia venerdì a partire dalle 17, l'Asiago giocherà sempre in prima serata all'evento e 30, che cosa ci dobbiamo aspettare dal pubblico? Speriamo chiaramente che l'Odegar sia sempre sold out. Ma io spero proprio di sì anche perché è ok di livello. Asiago è famosa per essere uno stadio dove vengono i competenti, i tifosi competenti, quelli che sanno di hockey. Beh, questa è una manifestazione per voi, è una manifestazione per quelli che non hanno mai visto ma è una manifestazione importante per quelli che sono abituati al buon hockey. Si comincia venerdì 20 alle 17 con lo Yertis Pavlodar opposto al Mogoriga. Alle 20.30 invece l'Asiago scende in pista contro i danesi del Learning Blue Fox. Sabato si replica alle 17 ancora i danesi del Learning contro i Lettoni del Mogoriga e alle 20.30 la sfida tra i campioni d'Italia in carica dell'Asiago hockey e i kazachi dell'Oyertis Pavlodar. Il gran finale domenica dalle 17, Learning Blue Fox contro l'Oyertis Pavlodar. Alle 20.30 l'ultima sfida del weekend, l'Asiago hockey sfida il Mogoriga.